Ciao a tutti, bentornati al nostro appuntamento di Chiesa Informa, le notizie e gli approfondimenti della Diocesi di Livorno. In questa puntata, l'ultima prima delle vacanze estive, parleremo dei pellegrinaggi, un tempo favorevole per vivere la fede, come ci suggerisce il nostro vescovo, parleremo dell'anniversario di Ablondi, di cui tra poco ricorderemo la data della morte due anni fa, e poi ancora parleremo dei giovedì nel Chiostro, un'iniziativa dell'azione cattolica diocesana. Sono arrivate le vacanze, ma Monsignore, le messe continuano oppure le chiese chiudono i battenti? Penso che questa sia ovviamente una battuta. Vedete, d'estate tutto rallenta un po', anche perché con questo caldo è impossibile mantenere i ritmi invernali, e allora proprio perché tutto rallenta, c'è anche le ferie, sarebbe il periodo ideale anche per andare a Verna, andare a Camaldoli, c'è anche di molto fresco, a Vallombrosa, oppure a Capraia, dove c'è un gran vento semplice, si sta di molto bene, per poter trovare anche del tempo per affrontare alcune questioni fondamentali, cioè quelle del tuo cuore. Il tuo cuore è contento se è nella serenità, nella speranza. Sapere che c'è una strada per vincere la morte, il dolore, la sofferenza, che è la Croce di Cristo, penso che possa aiutare non poche persone a recuperare tante energie e tante speranze che a volte nella vita faticosa e tutti i giorni si perdano. Il 21 agosto ricorre il secondo anniversario della morte di Monsignore Ablondi. La diocesi ha già pensato a qualcosa per ricordarlo? Quest'anno apriremo in memoria proprio di Monsignore Ablondi una casa del clero, proprio dove lui è abitato e ospiterà, incomincerà a ospitare dei sacerdoti, così quella casa che ha visto sempre la presenza di tanti sacerdoti continuerà a vedere la presenza di sacerdoti, ci sarà proprio anche una cappella dove verranno celebrate le sante messe proprio in suffragio, in ricordo di Monsignore Ablondi. Poi come al solito, l'8 settembre, ricorderemo come l'anno scorso, Monsignore Ablondi, nel tradizionale peregrinaggio a Montenero. Ovviamente si fa l'8 settembre perché la data in cui Monsignore Ablondi ci ha lasciato è nel piano delle ferie e vorremmo che fosse ricordata bene. Sono proprio contento che si possa fare una prima opera in memoria di Ablondi, poi un'altra stiamo realizzandola, però questa volta sarà con la Caritas per i poveri che lui ha sempre seguito. Il Vescovo ha consigliato di fare dei pellegrinaggi durante l'estate, l'agenzia cosa propone? Allora quest'anno in estate abbiamo, come ricordava il Vescovo la volta scorsa, una terra santa in partenza da Pisa dal 22 al 28 di luglio. Poi abbiamo in programma per settembre un itinerario a Međugorje, un pellegrinaggio classico che facciamo tutti gli anni con la partenza da Pisa in aereo e poi facciamo un Međugorje in aereo dal 13 al 17 di settembre, anche questo da Pisa. In autunno avete qualcosa in programma? Normalmente in autunno facciamo delle gite di un paio di giorni, di uno o due giorni appunto che possono essere pellegrinaggi classici oppure itinerari turistici dove c'è comunque spesso la presenza di un sacerdote. Per informazioni eventualmente potete contattare direttamente l'agenzia oppure vedere sul sito della Diocesi. Una torta speciale a forma di grande libro che ricorda il Vangelo oppure uno spartito dove tante volte ha scritto musica sacra. È stato festeggiato così Monsignor Lelio Bausani nell'anniversario del suo settantesimo anno di sacerdozio, ringraziando il Signore di questo lungo servizio sacerdotale dedicato alla Chiesa Livornese. Per la prima volta i collaboratori insieme con gli ospiti della Caritas hanno organizzato una festa di tutti i volontari livornesi che si dedicano ad attività caritatevoli nelle diverse parrocchie e gruppi. Una tavola imbandita allestita proprio davanti al porto di Fraternità in via delle Cateratte ha fatto da cornice alla serata un momento di festa per chi dona tempo ed attenzioni ai più poveri. La Stella Maris di Livorno, la fondazione che sostiene e accompagna i marittimi che arrivano al porto, ha creato una pagina Facebook dove chiunque può lasciare foto e messaggi, un altro piccolo servizio per far sentire il centro come una casa per chi è lontano da casa. Anche quest'anno è stato assegnato il premio Don Quirici in memoria del sacerdote livornese per riconoscere e promuovere realtà ed individui che si prodigano nella carità e nell'impegno civile. Il riconoscimento, che consiste nella consegna di un attestato di merito e nell'offerta di un assegno di 500 euro per fini benefici, ha visto premiati il dottor Salvatore Nasca impegnato nel mondo del carcere e il gruppo della Ronda della Carità della parrocchia San Giovanni Bosco in Coteto per il servizio giornaliero di aiuto ai senza tetto. Come consuetudine nel mese di luglio l'azione cattolica diocesana ripropone i giovedì nel chiostro, quattro appuntamenti di riflessione intitolati quest'anno Coraggiosi per scelta. Lavinia Bernardini ai microfoni di Giulia Sarti. Che cosa sono i giovedì nel chiostro? I giovedì nel chiostro sono degli incontri di preghiera, riflessione, meditazione, ma essenzialmente di condivisione con la cittadinanza e la diocesi tutta, promossi dall'azione cattolica. E quest'anno di cosa si parlerà? Quest'anno si torna alle origini. I giovedì nel chiostro sono nati nei primi anni 90 con padre Pino Piva, nazione cattolica. E padre Pino Piva faceva delle lezze divine. Quest'anno torniamo alla lezze divina in modo da penetrare nella parola, però l'argomento è più che mai attuale perché il Papa Benedetto a maggio un mese fa è stato in Toscana, è stato Arezzo durante una visita pastorale e ci ha proprio gridato di non scoraggiarci e quindi di riprendere una via di rinnovamento sia etico che spirituale. E noi improntiamo questi giovedì nel chiostro sul coraggio, ecco, coraggiosi per scelta. Gli ospiti, gli orari e le date? Allora, gli ospiti sono tutti personaggi livornesi, nel senso sono quattro persone che vivono in maniera diversa la loro vocazione alla Chiesa. Abbiamo Sua Raffaella, il primo giovedì, il 5 di luglio, che parlerà del coraggio di affidarsi. Il giovedì successivo, il 12 luglio, abbiamo un diacono, il nostro diacono Renato Rossi, sul coraggio di scegliere. Il 19 luglio abbiamo un presbitero, il salesiano Don Ginoberto. E l'ultimo giovedì, il 26 luglio, un laico, Nicola San Giacomo, che conosciamo tutti, che è un padre, marito e lavoratore. Quindi lui affronterà la parola sul coraggio del quotidiano. Domenica 1 luglio alle 17 a Guasticce saluto ai bambini del Sarawi. Alle ore 18 alla Rotonda di Ardenza, Santa Messa e benedizione dei nuovi automezzi della Misericordia di Livorno. lunedì 2 luglio alle 9 incontro con l'ufficio scuola in Vescovado. Martedì 3 luglio alle ore 11 recita dell'ora media incontro in occasione dell'anniversario dell'ordinazione di Don Gino Franchi alla parrocchia della Sitom. Domenica 8 luglio alle 8 e 30 il Vescovo è in visita pastorale in Gorgona. Alle 21 a Castellanzelmo concerto di inaugurazione per l'organo restaurato. sabato 14 luglio alle 15 a Rosignano Solvè, Santa Messa per il campeggio dei disabili organizzata dalla Fondazione Caritas. Domenica 15 luglio alle 10 e 30 Santa Messa è ingresso del nuovo parroco a Castellanzelmo Don Antonio Sapienza. Lunedì 16 luglio alle 9 Santa Messa per la festa della Madonna del Carmelo. Sabato 21 luglio alle 8 pellegrinaggio diocesano mensile a Montenero. Dal 22 al 28 luglio il Vescovo accompagnerà il pellegrinaggio in Terra Santa. Domenica 12 agosto alle 9 e 30 Santa Messa a Napineta di Castiglioncello. Dal 14 al 16 agosto il Vescovo sarà in visita pastorale a Capraia. Dal 17 al 29 agosto viaggio ecclesiale nella diocesi di Dodoma in Tanzania. Dal 31 agosto al 2 settembre a San Gimignano convivenza dei diaconi permanenti e delle loro famiglie. Grazie a tutti per averci seguito se volete rivedere questa puntata e anche le altre potete farlo attraverso il nostro sito www.diocesilivorno.it. Nel frattempo ciao a tutti e buona estate!